Zoe, cosa è successo al mio corpo? Oh no, non hai nemmeno i capelli! Sei pelato, sei pelato, spring! Aspetta, Zoe, mi sono accorto adesso che non posso andare in bagno! Oh no! Vabbè, non penso sia un problema, non abbiamo neanche gli organi per dover andare in bagno. Hai ragione, ok, però dobbiamo trovare un modo per trovare le nostre parti del corpo, ok? Quindi, spieghiamoci e portiamo magari a casa qualcosa. Ok, ad esempio, vediamo shop. Oh, praticamente posso comprare un pugno così che posso rubare gli altri le parti del corpo, Zoe. Oh! Perfetto, vediamo se funziona. Adesso in questo momento ho un punch. Quindi adesso se vado io qua davanti a sto tizio e inizio a picchiarlo... Oddio, posso... Io l'ho rubato, guarda Zoe, un corpo finalmente! Ah, io l'ho rubato, ciao! Mi rubo delle cose. Oddio, no, Zoe! Io voglio le mie di cose, cioè guarda che corpo... Ma come sei tu? Aspetta, ma... Ehi, ma quella mi ha rubato il mio corpo! Dammelo! Ma aspetta, puoi buttare questo tizio a terra che c'ha la mia gamba? Oh, ok, va bene. Voglio la mia gamba. Mi sono preso quella gamba e quella dell'altra! Dai, aspetta! Voglio anch'io la mia gamba! Ammi la mia braccia! Hai la mia gamba quella tizia! Vieni qua! No, cavolo, non posso fare la mia gamba! Io la mia di gamba! Oh, mio Dio! Aspetta! Oh, cos'è questo? You must collect all the body parts! Ah, ok! Il nostro obiettivo è quello che dobbiamo prendere tutte quante le nostre body parts! E questa ha qualcosa che mi serve a me! Ovvero il mio braccio! Sì, ma è un problema che io non so neanche dove sia il mio torso, il mio tutto! È vero! Perché io ho trovato che questa gamba ce l'ha a caso, però! Dove potrebbe mai essere! Scusami, ma mi devo fregare la tua gamba! Ecco! Aspetta, ma io c'ho un tuo braccio! Dammi il mio braccio, subito! Guarda, io sto prendendo pian pianino il mio corpo! È questo qua, tieni! Grazie! Prendilo, prendilo! Ok, te lo stavo per rubare! Funziona! Però andati a prendertelo! Aspetta! Ma com'è che sei senza capelli tu? Non lo so! Sono spawnato senza capelli! Ma io non l'ho capito questa cosa! Non è che devo trovarli da qualche parte, eh? Ma dove li trovo i miei capelli? Non è possibile! Uffa, io voglio... Però mi dice che c'ho la testa, quindi evidentemente anche se tipo sto senza capelli, lo completo comunque! Ah, ma prima spawnano in giro a caso! Ah, sì! Allora dobbiamo metterceli a cercare! Zoe, mi sa che questo è il tuo braccio! Sì, è il tuo braccio, Zoe! L'ho trovato! Vieni, vieni nel campsite, qua! Eh, sì, vabbè, un attimo voglio provare una cosa! Come, scusa? Ho completato un corpo con tutte le cose... Ah, no, devono essere tutte mie! No! Il tornado, Zoe! Stai lontano dal tornado che ti toglie tutti i buonchi! Ti toglie tutte quante le cose! Dove sei, Sbri? Dentro la foresta, vieni nella foresta! Ho trovato anche il tuo braccio qua, cioè, Zoe! Ah, non è il tuo! Arrivò! Però ho trovato un altro che in realtà è il tuo! Vieni però prima che se lo fregano gli altri! Dove sei? Sì, sì, sì! Eccoti, entra, entra, vieni qua, vieni qua! Ma che come cacchio sei vestita, Zoe? Hai un braccio scardinato da tutto! Vieni, seguimi! No, non è quello, non è quello! Vieni qua, 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 devi seguirmi! Dove sta parte? Oh, no, 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 non partilo fregare! Questo è questo qua, il braccio! Prendilo, prendilo prima! Oh, brava! Oh, perfetto! Ok! Ora sei molto più normale! Ok! Dobbiamo trovare... Oh, no, non credo che sia questo il tuo! No, questo no! Cavolo, dove sarà mai la mia gamba? Chi è questo? No, questo qua non è il tuo! Oh, sì! Se trovi una gamba tipo jeansata, Zoe, con la mia scarpa, sai che è la mia, ok? Uh-huh! Cerchiamo, andiamo a vedere se magari la troviamo da qualche parte! Ragazzi, dobbiamo percare ovunque, perché secondo me potrebbero essere anche molto nascoste le nostre body parts! Eh già! Ok, qua non c'è niente! Eh, però la cosa che noto è che lì è ancora più alto! Cioè, è più grande questo... È troppo grande questo posto! Oh, mio Dio! Non lo troveremo mai! Dove sei, Zoe? Uffa! Io sto cercando le mie parti! Ma non le trovo! Mannaggia! Voglio pure io trovarle! Eh... No, quello non è! Eh... Vediamo un attimo! Qua vuoi giocare a scacchi? Cosa? Vabbè, andiamo avanti! Wow, qua c'è un bel picnic! Sperando che non siano fatti però il cibo con... E le body parts! Ok, aspetta! Forse ho trovato un'altra zona che potrebbe... Forse servirmi! Oh, ok no! Qua non c'è niente! Magari potrebbe avercelo anche qualcun altro, ragazzi! Che ci va in giro, effettivamente! Non ci ho pensato a questa cosa! Zoe! Potrebbe avercelo qualcuno! Eh già! Io però ho trovato il mio torso! Davvero? Ah! Che fortuna! Ok! Ma mi sei buggato! C'è solo un quadrato! No! Ok, qua non c'è niente! Devo cercare qualcuno che ha il mio body part! Eh no, sembrerebbe che qua non mi serve niente! Cos'è quella roba lì? No! Devo cercare qualcuno che c'ha la mia gamba! Chi è che ha la mia gamba? Mannaggia a me! Non vedo nessuno con la mia gamba! Non mi piace questa storia che non c'è nessuno con la mia gamba! Magari da questa parte nella spiaggia! Che strana spiaggia tra l'altro! Tutta gialla! Ok! No! Nessuno con la mia gamba! Chi c'ha la mia gamba? Quel tizio avrà la mia gamba! No, non ha la mia gamba! E poi è pure strano! Eh ma poi se ce l'hanno loro la tua gamba come fai a prendertela? Gli do un pugno e me la frego! Posso farlo! Ah! È vero! Sì sì! Knife! Vedi knife! Tutto quanto c'ho praticamente! Clicco drop! Ah! Io posso droppare la mia gamba! Wow! Incredibile questa cosa! Eh! Cos'è questo? No! Non è mio! Eh! No! 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 Non c'è nessuno con la mia gamba! Porca miseria! È un casino questo! Io lo sto cercando! Sto cercando nei posti più strani! È vero! Ma è impossibile da trovare! Cos'è questa cosa? No! Ma Zoi! Ma ci stanno delle cose che tipo sono... Tipo ho messe dentro... E... La terra addirittura! Come fai a trovarle? Oh boh! Io sto cercando! Io non voglio farlo solo The Walls! Oddio! Posso comprare questo per vedere le mie body parts attraverso i muri! Vediamo se lo trovo! Oh! Ok! Vediamo! Ok! Fatto! Bene! E adesso dobbiamo solamente sfruttarlo! Vediamo se funziona! Eh! Se magari me lo dà! Aspetta! Lo vedo! Non vedo niente! Vedete qualcosa ragazzi? Sì! No! Non c'è nulla che esca fuori dalle... Dalle... Mi hanno trollato! Aspetta! Aspetta che forse ho visto qualcosa! No! Porca miseria! Non riesco a trovarla! Zoi! Oh! Neanche io! Oh! Tsunami! Oh no! Mi dice qua che posso vedere le mie cose attraverso i muri! Però io non lo vedo attraverso i muri! Aspetta! Proviamo a farlo! Vediamo se funziona effettivamente questa cosa che mi ha detto! Ma non lo vedo attraverso i muri! Ma non è vero questa cosa! Ma com'è possibile? Allora aspetta! Shop! Gift! Owned! Ma non ce l'ho! Ma posso fare anche un regalo addirittura! Eh! Non ce l'ho però! Ah! Lo vedo! Ce l'ho che ha gamba! Lo vedo! Lo vedo! Lo vedo! Non me la rubate! Dove vedo il mio body part? Cioè ce l'hanno rubata! Ma l'ho trovata! L'ho trovata! Ce l'ho! Ok! Meno male! Io mi sa che ho trovato la mia gamba! Perché grazie all'X-Ray! Aspetta! Eh! E' lì! Cosa? Ma stava tutto il tempo lì in fondo sotto praticamente quel ponte! Ma che davvero? Ma guarda! Non ci voglio credere! E' lì in fondo che sta galleggiando! Ma porca miseria! Chi è che l'ha messa qua? Oh! Ora tutto io! Ce l'ho tutte! Ok! Adesso in teoria dovrei riuscire ad aumentare il mio punteggio! Vediamo ragazzi! Vediamo cosa accade! E magari mi ritornano anche i capelli! Eh! Would you like to lose your body part? Sì! Oddio! Ho recuperato uno score! E adesso però sono senza di nuovo niente! Ma perché non ho i capelli? Oh no! Eh! Voglio i miei capelli! Eh! Fai il reset! Prova! Dici che funziona il reset! Eh sì! Vediamo! Oh! Oh! È vero! Però adesso tutti i body part... Ah niente! Ok! Come l'ho detto! Oh! Finalmente il mio cappuccio e i miei capelli! Oh! Finalmente! Ok! Adesso devo trovare dove stanno le mie parti del corpo! Ok! Uno è lì! Voglio capire come spavano! Spavano una ca... Uno ce la sta indossando! Ma come si permette? Ma come si permette? Adesso gli do un pugno veramente? Che adesso veramente gli faccio fare... Oh! Ecco! Intanto lì c'è anche... Guardate il mio... Il mio body! Quindi posso mettermi... Ma a me manca solo un braccio e una gamba! C'è la mia gamba invece? Che avevo visto un tizio che già ce l'aveva... Aspetta! Svriser! Ok! Perfetto! Ecco qua! Adesso ci sono! Ok! Andiamo a cercare dove cacchio sta il tizio! Perché l'avevo visto! Ecco! Lì in fondo! Ok! Mi sa che è fermo! Tranne se non l'ha posato! Chi è che ce l'ha? Ce l'ha lui! Oddio! Gli ha dato un pugno! L'ha fatto cadere tutto! Dov'è? Aspetta! Non lo vedo! È lì! Il mio braccio! Oh! Finalmente il mio braccio! Finalmente! Ok! Ok! Uffi! Io sono ancora senza una gamba e senza un braccio! Mi mancano solo quelli! Dai Zoe! Forza! Trovali! Eh! Ma non li trovo! Io ho un punteggio! Oh! Guarda! La cosa bella è che tipo si trovano a caso per la mappa sì! Ma oddio! Lo sto utilizzando quel tizio! Il mio braccio! Ehi! No! Dammi il mio braccio! Dammi! Dammi il mio braccio! Dammi! Guarda eh Vaz! Mamma mia! No! Il mio! Non è il mio braccio! La mia gamba! Dammi! 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 Ecco! Dammi! Dammi! E ferma! E ferma! Ecco! No! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Mi sono fregata quella sua! Ho sbagliato! Mannaggia! No! Oh! Ecco! Infatti! Dammelo! Ah! Ciao! Mi ha dato il mio... La mia gamba qua per dirvi che non fermi nulla però teniti la tua gamba! Oddio! Hai sperato un tornato? Attenta! Sì! Sì! Sto attentissima! Io voglio usare il mio braccio e la mia gamba! Cosa? Che cosa? Che tizio ho la mia gamba? Aspetta ma non me l'avevo presa la mia gamba? Ma cosa? Dammi la mia gamba! 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 Non riesco a prenderla! Cavolo! Dammela però bro! Droppamela! Per favore! Evaz! Mannaggia a te! Evaz! Io ci sono andato con le buone! Però tu non vuoi! Perché continuo a sbagliare? No! Dammi la mia gamba! Dammi la mia gamba! La mia gamba! Droppamela! Evaz! Vediamo che cosa mi sta scrivendo! Mi sta scrivendo niente! Mi sta scrivendo! Dammi la mia gamba! Ah finalmente! Ciao! Ah finalmente! Con le buone no! Con le cattive sì! Eh vabbè! Allora va bene! Allora andiamoci a prendere il braccio che sta lì in fondo! Zoe! Ma cosa accade se io indosso tutto quello che indossi tu? Che sei una vera rottura di cavolo! Ah questo è il tuo braccio comunque! Sì! Io non trovo ancora i miei! Aspetta ma un po'... Fermati un attimo! No! No! Lasciami un po' Dico! 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 No! No! Non ti ho fatto nulla! Perché non ti ho shottata? Scusa! Ah! Che cosa? Shottata? No! Lasciami un po' Aspetta ma quella è una mia gamba! Sì! No! Non è una mia gamba! Ah no! Ok! Stai fermo un attimo! Voglio vedere una cosa! Voglio vedere come sto controllo! Ah! Finalmente! Wow! C'è un Zoe! Guarda via! Ho le tette! Uh! Allora io ho scelto... Scambiamoci il corpo del tutto proprio! Eh vabbè! Così divento... Ahia! Ok! Aspetta! Perché non riesco a mettermela? Ma... Non riesco a mettermela! Ah boh! Uh vabbè! Sono sexy! No! Non mi mi ho posto! No! No! Non mi mi ho posto! No! 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 Ah! Mi ha preso pure il braccio! Ciao! Mi piacere! Dammelo! 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 Chissà dove sono però le tue cose! Te... Appunto! Sbrigati! Dammi le mie cose! Dai va bene! Te l'hai troppo! Te l'hai troppo! Però tu troppa delle mie! Ok! Vieni! E... E... Due! Tieni! A posto! Ora mi prendo le mie! C'è un panno che ha rubato il tuo dorso! Oh! Dammelo subito! Dammelo subito! Solo se si è a busto! Dammelo! Mannaggia a te! No! Non riesco a prenderlo! Mannaggia! Forza! Forza! Droppa! 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 Oh! Fa un bagno! Fallo con le cattive allora! Ah! Posso! Fatto! Olè! E adesso andiamoci a prendere un altro punto! Eh! Madonna! Ci sono persone che hanno 3000 di punti! Ma come fanno ad avere 3000 di punti? Sì! Oh! Ora ne ho due! Sì ne ho due! Vediamo! Ma è impossibile! Eh sì! Ah guarda! Già ho trovato il mio braccio! Ma in due secondi! Ok! Eh! Perché probabilmente sono appena spawnati in giro per la mappa! A me le hanno già rubate le mie cose! Probabilmente! Oh beh! Io con l'X-Ray riesco a trovarli inverosamente comunque! Sono veramente semplice! Ma qua c'è una tua gamba! E se te la rubassi? Non ti permette mai a rubarmi le mie cose! Quasi quasi! Me lo prendo pure io l'X-Ray! Perché non è giusto! No! Clicca questi altri video per altre nostre avventure! E lascia like! Mi raccomando se questo video ti è piaciuto! Ciao ciao! Ma che cacchio! Vabbè! Ciao ciao! Ma ciao! Vabbè!